pochi istanti alla partenza della terza corsa dall'arcoveggio un confronto ancora per soggetti di tre anni questa volta corsa mista sul miglio uno falena due fritz lang tre falcao quattro favoloso mark cinque fiorella jet sei felce florida in seconda linea sette filli davin otto floyd nove fringuella jet dieci fonzi dei greppi undici falco stella scuderia fra i numeri due fritz lang e undici falco stella favori invece per fiorella jet molto appoggiata al gioco francesco pettinari in sediolo numero cinque macchina che accelera l'errore di falcao mentre faleno tre falcao squalificato falena si avvantaggia subito nettamente nei confronti di fritz lang numero sei felce florida squalificato ambio è squalificata e all'esterno c'è la progressione di favoloso mark numero sette filli davin squalificato fioccano intanto le squalifiche primi duecento in quindice quattro al comando rimane falena che va a completare i primi quattrocento di gara in trenta e mezzo seconda posizione si è accodato favoloso mark più indietro concede numero nove fringuella jet squalificato poi fiorella jet che è in quarta posizione e ora in quinta posizione e ora accena muovere all'esterno sulle tracce di floyd che a sua volta progredisce tanto però falena guida nettamente a completamento degli ottocento uno uno e sei passaggio al mezzo miglio andatura quindi svelta di falena seconda posizione per favoloso mark l'errore invece di fiorella jet in terza posizione c'è floyd numero cinque fiorella jet squalificato uno sedici e sette il chilometro corsa di eliminazione sono rimasti praticamente cinque nelle prime posizioni ora però l'errore anche di chi guidava numero uno falena squalificato si ritrova al comando favoloso mark a 400 dal palo in vantaggio favoloso mark nei confronti di floyd che ora prova ad avvicinarlo più indietro frislang non tiene il contatto i primi due hanno preso netto margine all'ingresso in retta d'arrivo con floyd che sposta all'esterno favoloso mark si difende floyd insiste a centro pista floyd va su favoloso mark floyd nel finale mette in con le battute migliori e sul palo probabilmente prevale mentre al terzo finisce ancora frislang controllando fonzi dei greppi uno diciassette uno arriva un po rilento trentuno e due e floyd edoardo baldi riescono probabilmente a passare proprio a fil di palo vedete favoloso mark che tenta l'ultima difesa ma floyd insiste nella sua offensiva e a fil di palo mette qualcosa davanti all'avversario per piegarlo di giustezza la vittoria per floyd in sediolo edoardo baldi per conto di andrea esposito e del signor riccardo gori doppio con i puledri dunque per edoardo baldi grazie a tutti grazie a tutti